Ho avuto l'onore di coordinare la sessione mattutina di questa settimana della bioarchitettura dedicata alla rigenerazione urbana sostenibile. In questo seminario abbiamo potuto vedere, partendo da casi internazionali, quindi con un panorama mondiale di quella che è la rigenerazione urbana o comunque di territori che necessitano di una riqualificazione per le cambiate condizioni di vita o per le cambiate condizioni economiche, per poi calarci invece nelle realtà che abbiamo in Italia e quindi andando ad analizzare delle nostre città oppure dei singoli edifici industriali abbandonati e vedere come sia possibile attraverso una seria programmazione e pianificazione degli interventi ma anche delle economie necessarie per attuare questi interventi, come sia possibile recuperare questi siti migliorando la vita sociale delle persone che ci vivono e quindi sia delle città ma anche dei piccoli centri urbani o anche centri rurali. Abbiamo poi visto l'importanza del verde o dell'agronomia urbana che ha degli effetti ecosistemici molto importanti, sono i cosiddetti servizi ecosistemici che vanno dal contrasto ai cambiamenti climatici nelle città che sono sempre più calde e quindi come la vegetazione ne abbassi la temperatura, alla diminuzione dell'inquinamento per la cattura della CO2 e la cattura delle particelle solide e all'aumento della socialità che si ha nei parchi che quindi favorisce l'incontro fra i cittadini della città in cui vivono e quindi abbiamo visto tutti questi aspetti anche con occhio critico poiché ogni progetto va comunque calato all'interno della realtà e del nostro paese.